Ho letto il risultato sulla app di OneFootball tra il PSV e lo Zwolle, vittoria del PSV e attenzione un grandissimo gol di Bergwijn che sono andato proprio a rivedere per capire e per diciamo così ammirare le qualità del giocatore. Parte sulla fascia di sinistra, un gol che ricorda un po' quei gol, e faccio un complimento perché è un grande giocatore anche Federico Chiesa, quando parte non lo fermano, cercano di spostarlo e con la forza tiene l'avversario per poi battere con freddezza il portiere. Questo è uno spunto per parlare anche delle strategie di Elliot. Ho saputo qualcosa di importante sulle strategie di Elliot. Elliot vuole per il prossimo anno una squadra di giovani, non di giovanissimi, di giovani. Quindi sarà un'estate molto calda per quello che riguarda l'eccessione di giocatori ritenuti magari ormai un po' troppo là con l'età e soprattutto, ovviamente tenendone qualcuno in rosa beninteso, ma soprattutto Elliot punterà a una squadra di giovani, giovani che possano valorizzarsi, che possano valorizzare il brand del Milan. Ormai sembra abbastanza chiaro che la scadenza dell'avventura di Elliot al Milan possiamo definirla quinquennale e non è un caso che quando si arriva alla scadenza quinquennale, visto che siamo al 18, si arriva al 2023, che può diventare il 2024, però il 2023 che dovrebbe essere anche, ecco perché Elliot insiste molto sul discorso stadio, potrebbe essere quella stagione 2022-2023 la stagione dell'inaugurazione nel 2022-2023 del nuovo stadio. Quando il Milan avrà valorizzato il brand con giovani interessanti che ovviamente possono regalare importanti plusvalenze, quando avrà un, diciamo così, un ben forte, un bel gruppo di sponsor, le sponsorizzazioni sono fondamentali, il marketing ovviamente andrà a migliorare le sue, diciamo così, il suo rendimento e il suo attivo, ma poi lo stadio sarà la ciliegina su questa torta. Queste probabilmente le finalità di Elliot, ricordiamo che è un fondo, ricordiamo che i fondi hanno delle responsabilità verso coloro che investono nel fondo, ma ecco perché vedendo il gol di Bergwijn mi viene proprio da pensare che sia uno, non dico l'obiettivo, ma la tipologia di giocatori, ecco i San Maximen, i Bergwijn, abbiamo già iniziato con i Pachetà, con i Piontek, Alessio Romagnoli, questi giocatori, chiaro che un Musacchio o un Zapata diventano fondamentali, ma come abbiamo detto oggi, proprio la figura, se poi sarà quella scelta, perché continuano a esserci una ridda di nomi per l'eventuale dopo Gattuso, la scelta di Pocettino, allenatore internazionale, come ho detto già nel mio primo video della mattina, è proprio finalizzata a questo, un allenatore che sappia valorizzare i giovani, che capisca le esigenze del club, che capisca eventualmente le cessioni del club, e poi però veniamo a un altro discorso. E le vittorie? E beh, chiaro che tutto questo i giovani interessanti debbano portare alle vittorie, perché il Milan non è solamente un brand così, è uno dei brand ancora oggi, mi hanno confermato in campo internazionale, uno dei più lucenti nel lagone delle squadre europee e mondiali. E le vittorie devono servire per lucidare questo brand. Però indubbiamente si va a cercare di vincere con una filosofia di giocatori giovani, di giocatori divertenti, di giocatori spettacolari. Quindi questo probabilmente è il futuro che attende i tifosi del Milan, magari non campioni già assodati, ma campioni che possono diventare, giocatori che possono diventarlo con il tempo. Poi bisognerà vedere se il Iliot avrà la forza anche morale di tenerli e di non cederli lusingati dalle plusvalenze. Però è indubbio che, per esempio, leggevo di un giocatore del Villareal, un giocatore africano, arrivato al Villareal per 500.000 euro ed è un giocatore che oggi ha una clausola di 60 milioni di euro. Sono questi i giocatori, il nome Enju è un nome molto difficile, è africano, andate a vederlo. È un giocatore che gioca nel Villareal, giocatore africano. Non voglio storpiare il nome, è un nome molto particolare, molto complicato da ricordare. Però questi sono gli obiettivi di Iliot. Cinque anni per riportare il Milan a essere una squadra e un club di grandissimo livello, con un suo stadio, con una sua filosofia di giovani, con qualcosa di nuovo. Vedremo se riuscirà, ma tutto questo mi è nato rivedendo ancora un gol bellissimo di Bervain. Ieri contro lo Zwolle. Pensate, da una parte c'era il PSV allenato da Van Bommel, dall'altro lo Zwolle allenato da Stam. Stam che andrà al prossimo anno al Feyenoord, Stam che sta diventando un grande allenatore, come era un grande giocatore del Milan, indimenticato giocatore del Milan. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.